Nell'uso ottoberica l'attività chirurgica, le visite e i ricoveri sono tornati ad un volume di attività con prestazioni quasi simili ai dati pre-pandemia. Una buona notizia che è stata resa nota dalla stessa azienda sanitaria che ha voluto così rassicurare i cittadini sul ritorno praticamente a regime di tutte le attività e i servizi messi a dura prova dagli effetti del covid. Nonostante due picchi pandemici infatti nella prima e nell'ultima parte del 2021 l'usberica ha prodotto prestazioni in quantità sovrapponibile al 2019 precisamente il 95 per cento per quanto riguarda prestazione ambulatoriale e i ricoveri. Un recupero che non si è prodotto solo nei mesi estivi ma nel 2021 è proseguito anche a novembre e dicembre nel pieno della quarta ondata. Significativi anche i risultati ottenuti per quanto riguarda gli interventi chirurgici. Nel 2021 hanno superato quota 38.000 contro i 35.000 del 2020 e i 42.000 di due anni prima dunque un valore pari al 91 per cento rispetto al pre-pandemia.